Prima uscita pubblica per costituente per Battipaglia. Il gruppo, formato da sette associazioni, ha incontrato nella serata di ieri i cittadini nella scuola di Amicis, affrontando una serie di argomenti legati al territorio di Battipaglia. Un'occasione per fare il punto della situazione amministrativa e per delineare le prospettive future anche in vista delle elezioni 2021. Innanzitutto oltre a parlare di temi parliamo di contenuti perché quello che manca in questa città sono i contenuti e la voglia di fare la politica è una cosa per quanto mi riguarda, per quanto riguarda questo gruppo innata, non è mai passata, non è mai finita, non dura il tempo di una campagna elettorale. Ecco perché siamo qui e continuiamo in questo lavoro di costruzione di un edificio che abbia delle basi solide. Che cosa vuol diventare costituente per Battipaglia? Costituente per Battipaglia vuole essere soprattutto in questo momento il governo delle competenze che si contrappone al governo di salute pubblica che propone questa amministrazione. Una sindaca che propone un governo di salute pubblica per sua stessa missione vuol dire che ha fallito. L'amministrazione arriverà a fine mandato o secondo lei si concluderà prima questa esperienza? Ma non ho la bacchetta magica, so solo una cosa, che più durano e più producono danni alla città, quindi meglio sarebbe passare la mano a chi ha più coraggio, più forza, più idee e soprattutto più competenze dal punto di vista amministrativo e politico. Ultimamente si parla di Battipaglia come di un malato, quali sono i farmaci che si possono dare a questo malato? No, noi abbiamo commentato un post stamattina per l'ulteriore perdita di risorse, un milione e mezzo di euro per le strade, abbiamo detto che è un'emorragia senza fine, quindi è un malato che ha un'emorragia senza fine. Dopo i 15 persi per il sottopasso, dopo tutto il disastro dei rifiuti, dopo una sanzione presa per l'inquinamento del fiume Dusciano perché riversiamo direttamente a mare anziché decorare le acque, dopo tutto quello che c'è stato fino a oggi, perdita di risorse per le infrastrutture, soldi che servono per la vivibilità per le infrastrutture e per rilanciare Battipaglia, per dargli una speranza almeno di sviluppo, pensavamo che ci fosse stata già la negatività totale e quindi un blocco della crescita di Battipaglia, purtroppo dobbiamo constatare che è tutto di nuovo fermo, anzi rischiamo di regredire rispetto anche al passato. Questa è una città che ha bisogno di correre, cammina ma sta camminando lentamente, quando zoppica ci sono ulteriori danni e quindi c'è la necessità di ridare vigore, la cosa è rivolta a tutte le esperienze positive che sono a Battipaglia, a tutte le risorse attive che ci sono, penso ai tanti professionisti, ai tecnici, ai lavoratori che poi si sono dati da fare in questi anni e che praticamente devono incominciare a pensare che a partire da loro questa città può rinascere.